Fabio Termine, prima estate della sua giunta varata, lo ha detto, ci siamo insediati a giugno e quindi varare questo cartellone è stato parecchio difficile, però oggi c'è un cartellone di estate esalcenze che lei ha rivendicato essere molto ricco e soprattutto molto variegato. Sì, siamo riusciti facendo le corse con l'aiuto decisivo di tutti gli uffici a varare questo cartellone che chiaramente oggi stiamo presentando, ma l'estate, almeno la nostra estate, è iniziata tante settimane fa, ricordiamo l'evento del Green Valley, da lì in poi ci sono stati tanti altri eventi di interesse culturale. Adesso stiamo presentando l'intero cartellone, un cartellone che bada a tutti i giorni, quindi ogni giorno ci sono uno o più eventi e soprattutto vengono interessate tutte le categorie, stiamo parlando ai bambini, con tanti eventi dedicati ai bambini, alle famiglie, anche ai più giovani e soprattutto poi a tutti quelli che hanno un interesse specifico per qualsiasi disciplina, perché ci sono eventi sportivi, ci sono eventi dedicati al teatro, che è una cosa che mi fa particolarmente piacere perché dopo anni di pandemia ritornano le compagnie teatrali, anche se non tutte, perché chiaramente non tutti avevano pronti degli spettacoli da offrire, però ritornano le compagnie teatrali nel latro inferiore e poi ci saranno artisti emergenti che avranno la possibilità di esibirsi sul palco di Piazza Angelo Scandaliato e tanti spettacoli musicali in Piazza Angelo Scandaliato. Quindi eventi variegati, soprattutto non soltanto all'interno del circuito del centro storico, ma anche in altri quartieri della città, che era una cosa che avevamo preso un impegno in campagna elettorale di dedicarci anche ad altri quartieri. Lo abbiamo fatto già in piccola parte in questa stagione, la prossima stagione chiaramente con la possibilità di programmare prima e meglio, chiaramente ci interesseremo per fare un cartellone il più possibile diffuso. Il 15 agosto, il ferragosto a Sciacca vuol dire soprattutto processione e finalmente dopo due anni tornerà anche la festa della patrona. Sì, io guarda con grande emozione devo notificare che questo sarà l'evento più interessante della nostra estate, la processione della Madonna del Soccorso e la nostra patrona che dopo tre anni ritorna a interessare non soltanto tutti i fedeli, ma anche i turisti che guardano con interesse a questa nostra processione. Proprio ieri abbiamo definito le ultime cose con tutte le forze dell'ordine, con il questore e anche con gli altri organizzatori, in primis la chiesa, quindi abbiamo organizzato tutto per poter fruire bene di questa manifestazione. Voglio fare un applauso agli operatori del comune che si sono dedicati a questa festa. Voglio citare tra tutti Gianmarco Alì, responsabile della protezione civile comunale, ma anche il geometra Vito Friscia e Pippo Monte, che sono stati dedicati all'organizzazione di tutto. Quindi penso che sarà un'estate dove ritorneranno tante tradizioni, in primis la devozione per la nostra Madonna del Soccorso che non ci ha mai abbandonato ma che adesso sarà chiaramente di nuovo per le strade di Sciacca. Lei durante la conferenza stampa si è già impegnato per il prossimo anno, ma in realtà anche per il cartellone degli eventi di Natale. Ha detto che li presenteremo 8 ombre, così come nella prossima estate verrà presentata in primavera. Sì, per la mentalità che abbiamo noi bisogna portare a Sciacca eventi di interesse nazionale. E questi si programmano con tanto tempo d'anticipo. Ora noi abbiamo avuto la fortuna di poter cogliere non soltanto il Green Valley, ma anche il concerto di Giussi Ferreri che prolungherà l'estate di tanto. Visto che è un 29 agosto e un lunedì, spesso in quella data già la gente si prepara ad andare a scuola, a ritornare alle proprie abitudini e quindi spesso non si creano momenti di interesse di questo livello. Invece sia con la presenza di Giussi Ferreri ma anche poi con l'Azzurro Food immediatamente dopo ci sarà la possibilità di prolungare di tanto l'estate, anche perché faremo un'altra delibera riguardante l'estate di Scienze che interesserà alcuni eventi di settembre. Per quanto riguarda il futuro, chiaramente già da ottobre vogliamo programmare il Natale, di concerto anche con i commercianti e poi la stessa cosa avverrà con l'estate. Vogliamo già iniziare a bloccare eventi per la prossima estate per garantire quindi un'attrattività, una catalizzazione di interesse nella città di Sciacca. Ci sono tante città che ne hanno fatto un vanto. Cito tra tutti per esempio Partanna che sta chiaramente diventando una meta per esempio di concerti. L'obiettivo nostro è anche quello di arrivare a questi livelli, portare eventi di interesse nazionale insieme a tutti gli eventi che riguardano il locale. Un'altra cosa, mi interessa anche ringraziare tutti quelli che chiaramente stanno aiutando il Comune di Sciacca ad organizzare eventi di interesse e quindi tutti gli eventi collaterali che il Comune ha patrocinato. Mi riferisco alla rassegna organizzata dal Circolo di Cultura ma anche alla Mondadori. Intanto quest'estate 2022 il tema era riportare la gente a Sciacca. Nelle ultime estate avevamo visto un centro storico deserto. Si sente di fare, adesso c'è un cartellone, un invito ai suoi concittadini a vivere questo centro storico? Assolutamente sì. Tra l'altro proprio stasera c'è un evento che farà rimanere a Sciacca tantissimi ragazzi, il We Move in Piazza Duomo che sarà un evento culturale, artistico che è organizzato proprio da giovanissimi e che insieme ad altri eventi che si svolgeranno in Piazza Angelo Scandaliato saranno insomma veicolo di permanenza nel territorio di Sciacca. Quindi l'augurio che mi faccio è che questa città possiamo iniziare a viverla con serenità e con interesse tutti insieme. e devo dire che per esempio l'evento del Green Valley ha fatto scuola su questo. Ci sono state veramente una commistione di pubblico che è stata anche emblematica. C'erano i genitori che accompagnavano i figli piccoli a vedere il concerto. Questo per dire che la città di Sciacca può essere interessante non soltanto per il territorio limitrofo ma anche per tutta la regione.